Buongiorno Buongiorno e ben trovati in questa edizione di Mattino 6, mercoledì 19 settembre 2018, pronti per vedere i fatti principali della giornata di ieri, come sono stati raccontati dai quotidiani locali e poi ovviamente la nostra digressione sulle prime pagine nazionali. Ovviamente il tutto accompagnato da alcuni servizi del TG6. Ecco la prima pagina del centro edizione di Pescara. L'apertura pronto soccorso, accessi limitati, pochi medici e troppi pazienti. Il primario è emergenza. Tutto questo all'ospedale di Pescara. Sotto la testata autostrade abruzzesi, fondi per la sicurezza nel decreto Genova, l'annuncio da parte di strada dei parchi. E poi verso le regionali, tra liti e sondaggi, è già campagna elettorale. Parte l'iter Zess, aree fiscali di vantaggio, ok da Roma all'Abruzzo. Scendiamo di spalla per lo Sport Champions, pazza Inter, tre punti in rimonta. Vittoria sul Tottenham per 2-1, pari del Napoli a Belgrado. 0-0 con la stella rossa. Il personaggio, la Miss Italia ha il marito abruzzese. E poi ancora, vediamo la foto, notizia, incidente spettacolare lungo la nazionale. Si schianta con l'auto e si ribalta, salvo per miracolo. E poi sempre a Pescara, nei richiami di cronaca, soldi e invalidità per Berghella, due anni e otto mesi. Addio a Baldacci, dipinse la storia di Pescara. E a Monte Silvano, furto in comune, ladri in fuga con un televisore. Sotto la fotonotizia, leggiamo anche menze scolastiche. che salta l'accordo a Pescara. La trattativa con la nuova ditta si arena sulla riduzione ore alle maestranze. Il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, quei tatuaggi che sembrano un menù. Andiamo avanti. Siamo alla prima pagina del centro, edizione di Teramo. L'apertura è con un fatto di sangue. Ancora una volta sulle strade. tampona un tir, muore a 33 anni. Incidente a Mantua, vittima perito chimico di Atri, il giorno del compleanno. E poi ancora la fotonotizia al centro. Si rinnova questo appuntamento della Teramo Calcio che va in visita in Curia. Il vescovo Leuzzi al Teramo dovete andare in serie B. Qui Monsignor Leuzzi omaggiato con una divisa ufficiale della Teramo Calcio. Al suo fianco il presidente del Teramo Campitelli. E poi i richiami di cronaca. Lutto a Teramo. Addio alla figlia di Scacchioli. Aveva 33 anni. Giulianova, coltellata a scuola, 18enne, va a processo. A Roseto, tassa turistica, incassati 300 mila euro. E poi ancora, stireria va bene, ma chiude. 50 a casa. A Campi il proprietario dell'azienda lascia per anzianità e nessuno lo rimpiazza. Ecco, un fatto davvero singolare. Un'azienda che va bene, ma chiude perché il proprietario è anziano. Avanti ancora. Siamo alla prima pagina del centro di Chieti-Lanciano-Vasto. Ancora la cronaca, ancora una vittima sulla strada, anche nel Chietino. Auto contro albero, muore a 50 anni. Tragedia. Lanciano, forse un malore all'origine dell'incidente stradale. Poi la fotonotizia, i ragazzi di Guardia Grele abbracciano il presidente della Repubblica, Mattarella. Delegazione all'apertura dell'anno scolastico sull'isola d'Elba. E poi ancora i richiami di cronaca. A Chieti il viadotto a rischio passa a Lanas, sempre a Chieti. Mensa a scuola, parte la caccia agli evasori. Presso il porto di Ortona, la Walter Tosto investe 10 milioni, subito 20 posti. E poi ancora la cronaca, molesta la figlioccia. Le amiche lo accusano a San Salvo, l'uomo incastrato dalle compagne della minore. Indaga la procura. Siamo infine alla prima pagina del centro dell'Aquila. Ucciso dai cani in due a giudizio l'Aquila, proprietari processati per la morte di un giovane operaio albanese. E ora la fotonotizia. Cittadinanza onoraria a Letta. La commissione si spacca. Comune nella bufera per il conferimento. E poi i richiami all'Aquila, sempre troppo pubblico e il ridotto non basta più. A Tagliacozzo sono scomparsi 50 mila euro dalle poste. E a Sulmona, Palazzo Mazzara, via al progetto di recupero. Torniamo ancora alla cronaca. Tifo violento, arrestati due avezzanesi, gli ultra, ai domiciliari per i disordini fuori dallo stadio. Nella partita di domenica scorsa contro il Cesena. E ora la prima pagina del messaggero Abruzzo. Torna la politica in primo piano. I ricorsi non ci fanno paura regionali. Il presidente Protempore Lolli, il 10 febbraio, è la data che garantisce tutti comprimere i tempi. Sarebbe stato più rischioso il problema dei 100 comuni montani. E poi sotto la testata, la sorpresa, Porto spunta una darsena non prevista dal progetto. E poi ancora a Lanciano, a mal di pancia, va all'ospedale e muore a 48 anni dopo un esame. Quindi tifo violento, come abbiamo visto poco fa, Avezzano-Cesena. Due arresti per i disordini dopo la partita. I giovani identificati dalle foto scattate allo stadio sono ai domiciliari. Nei prossimi giorni potrebbero scattare altri provvedimenti cautelari. Di spalla autostrade il giorno della protesta al Ministero. Intanto la holding di Toto rassicura che non ci sono pericoli di staticità. La foto, notizia, Lanciano, volo fatale nella scarpata. La vittima è Gentilina Camiscia di 50 anni. Poi sempre in taglio medio, Parco delle Rose. La procura chiede il processo. Delibera-Falsa potrebbero finire in tribunale D'Alfonso, Paolucci, Pepe, Scrocco e Di Matteo. Poi in basso Pescara, Dioa Baldacci, pittore di razza. Chiudiamo questa fase con la prima pagina della città. Il quotidiano della provincia di Teramo. L'apertura. La storia di Maria commuove Teramo. Decide di sposarsi nonostante la malattia. L'unidì sera si è spenta 33 anni. Oggi i funerali. Sotto la testata, ipodromo di Lanciano, sette imputati per falso. Chiesto il processo per D'Alfonso e mezza giunta. Carabinieri arrestato Bellantese, trafficante di auto ricercato in Albania. E poi a centropagina, ecco la foto, notizia, muore alla vigilia del compleanno. Tutto questo è accaduto a Mantova. Ingegnere di Atri perde la vita sulla A22 del Brennero. E poi una serie di richiami. Intanto la sentenza di Alba. Epidemia di gastroenteriti. Tutta colpa degli scarichi abusivi. Quattro milioni e mezzo di euro. Arrivano i fondi per la frana di Casoli di Atri. Poi ancora di spalla viveva a Cellino Attanasio, nel terramano Dio a Goran Kuzminak, il cantatore amico di Induccio Ivan Graziani, che aveva scelto la vita in Abruzzo. E poi sempre per la cronaca terremoto, Crognaleto apre la seconda scuola, dopo quella dell'Ichea. Oggi ne arriva un'altra antisismica anche a Tottea. E poi a piedi pagina la domanda. Chi guarirà prima? Teramo e San Merenettese, malate d'inizio anno. E domenica c'è lo sconto diretto al Bonolis, ore 18.30. Il libro C'è tanto Abruzzo nel bel paese, intatto, di Mario Tozzi. Andiamo ora a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo da Repubblica, che apre così. Olimpiadi. Torino resta fuori, vanno avanti Milano e Cortina. Intanto Di Maio, ultimatumatria, pretendo i fondi per le riforme. Giorgetti, il ministro, non si tocca. E poi ancora a centropagina la fotonotizia. Eccola qui, Kennedy, le foto inedite della famiglia dal codice di ferro. Non si piange mai. E poi la beffa dei soldi, i 49 milioni incomoderate. La Lega pagherà fino al 2094. E poi ancora in basso, dopo le marce anti-immigrati, commenti troppo filo-nazisti. Merkel, Silur, il capo degli 007, Seehofer, lo chiama al suo fianco. E poi i pericoli delle armi facili. Di Firenze, spara dentro casa. Era in cura psichiatrica da anni, ma gli avevano lasciato. Otto fucili. La prima del Corriere della Sera. Ecco qui l'apertura. Di Maio all'assalto di Tria. Pretendo che trovi i soldi per gli italiani. Caso politico sulla manovra. E poi il leghista Bagnai. I toni sono un po' caricati, ma bisogna dare respiro alle famiglie. Sotto la testata, Napoli pari a Belgrado, effetto Champions. L'Inter si sblocca. E poi a centropagina, ecco la fotonotizia. Questa notizia che arriva dagli Stati Uniti, in particolare dallo Stato dell'Iowa. La campionessa di golf ha coltellata sul green. Uccisa a 22 anni. Arrestato un uomo. E poi di spalla, Milano e Cortina. Nuova formula per le Olimpiadi. Salta la candidatura a tre. Proseguiamo. Siamo sul fatto quotidiano. Lunga vita. La Lega la fa franca. Ridarà i 49 milioni in 76 anni. 456 rate. Altro che persecuzione giudiziaria. Scrive il fatto quotidiano. La Procura accoglie la proposta di Salvini sui fondi da restituire. E poi c'è un'intervista al Ministro Giulia Grillo. Ministra della Salute. Così cancelleremo il super ticket tagliando sprechi sui farmaci. Andiamo in taglio medio. Ancora la dietriva in seno al governo. Tria va alla guerra del deficit con Di Maio. In nome dell'Unione Europea. L'ultimatum del Vice Premier al Ministro del Tesoro. Trovi le risorse. Con il disavanzo all'1,6% del PIL. La soglia fissata dal Tesoro. Si evita solo l'aumento dell'IVA. In bilico tutte le promesse del contratto di governo. Proseguiamo. Siamo sulla prima pagina della stampa. Giochi invernali. Torino esclusa. Restano in campo. Milano e Cortina. È sfumata la candidatura a tre per il 2026. Sì al ticket ma dovranno trovare i soldi da soli. Intervista a Giorgetti. Mancato lo spirito olimpico. E poi di spalla leggiamo. Collezionista, miliardario, giapponese. Ecco Yusaku. Il primo turista lunare. Volerà con il nuovo raggio di Elon Musk. Il viaggio è previsto per il 2023 ma prima sarà necessario un duro addestramento. Il costo del biglietto potrebbe arrivare fino a 200 milioni di dollari. E poi ancora proseguiamo. Siamo in taglio medio. Manovra. I grillini studiano un documento contro Tria. I viceministri gialloverdi rimettono le deleghe. Proseguiamo. Siamo sulla prima di Libero che apre così. Il reddito di cittadinanza esiste già. 10 milioni di italiani mantenuti da tutti noi. Studio del professor Brambilla. C'è un esercito di zavorre che riceve assegni per 46 miliardi l'anno a pagare. E chi dichiara più di 35 mila euro lordi. Soldi buttati senza produrre lavoro né benessere. Di Maio offende Tria. Un ministro serio trova le risorse. Non possiamo aspettare. Poi la fotonotizia si chiama narco della decima mass. Pd in allarme. Questo cane è uno sporco fascista. Nell'articolo dissacrante firmato da Filippo Falci. Poi un paio di richiami. Sconti a Vanvera come speculare ingannando le regole fiscali e poi aiuti concreti subito. Adesso Genova deve diventare una zona franca. La prima pagina del tempo che dà spazio alla politica in apertura. di partito democratico. L'estinzione del PD. Faide interne. Sondaggi a picco. Figuracce a ripetizione. Calenda. Segretario. Serve uno psichiatra. O un prete per l'estrema unzione. E poi la fotonotizia. Al centro non avrai altro pio. A 50 anni dalla scomparsa del frate. Il suo culto non smette di crescere. Poi di spalla. Uno spalmadebidi per il carroccio. Accordo lega giudici. Rate da 600 mila euro per ridare i 49 milioni. E poi il tempo di oscio. I bollettini mi arrivano a casa. Giusto? Vi risparmio la pronuncia romanesca questa volta. Poi la cronaca che arriva con una notizia che arriva dal carcere di Rebibbia. Detenuta uccide la figlia e ferisce il fratellino. La donna getta dalle scale i piccoli di sei mesi e due anni. La neonata è morta. L'altro bimbo è gravissimo. Il messaggero con l'apertura. Eccola qui. Di Maio. L'ultimato Mattria. Il vice premier. Pretendo che trovi le risorse per gli italiani in difficoltà. Sia serio. E vuole tagliare 345 parlamentari. Irritazione del ministro. Pronto a togliere il disturbo. Sotto la testata. Lo sport. Strategie. La Ferrari lancia l'auto del futuro. Tipologia mai vista. E poi per la Champions League. La Roma-Madrid. Di Francesco chiede una notte real. Inter rimonta super. E poi in taglio medio. Olimpiadi invernali. Torino e fuori. Milano e Cortina ci provano da soli. Le parole del sottosegretario Giorgetti. Mancata la condivisione. Oggi il dossier a Lausanna. E poi di spalla il decreto del governo. Genova. Il ponte a spese di autostrade. Il commissario deciderà chi lo costruisce. Poi ancora. Roma. Favori e tangenti pagate da Scarpellini. Ecco la rete dei politici verdini e coratti indagati per finanziamento illecito. In carcere per corruzione il sindaco di Ponzano Romano. La prima pagina della verità. Con una intervista con il presidente del Consiglio Conte. Che dice. La pace fiscale si farà. Provvedimento imprescindibile. Flat tax, fornero e reddito di cittadinanza. Valeremo tutto per gradi. Autostrade pagherà il ponte. Non lo ricostruirà. Ho condiviso ogni decisione con Salvini sull'immigrazione. Non siamo razzisti ma orgogliosamente populisti. E poi la fotonotizia. Conti truccati al giornale di Confindustria. La Consob processa napoletano. In taglio medio resa dei PM. Non possono chiudere la Lega. I famigerati 49 milioni verranno restituiti a rate in 76 anni. Intanto il carroccio farà ricorso. La prima pagina del manifesto. Gioco di parole da Tira Campare a Tria a Campare. Il ministro dell'economia Tria non cede alle pressioni di Lega e 5 Stelle. Alza paletti dello scontro sulla manovra. Deficita l'1,6%. O i mercati ce la faranno pagare di mai o sbotta. Pretendo che un ministro serio trovi i soldi. Salvini non rinuncia a cambiare la legge Fornero. E poi in basso la Lega salderà il debito in 76 anni. Il carroccio patteggia il sequestro dei 45 milioni. Ottiene il pagamento in comodissime rate. Andiamo ora con la prima pagina dell'avvenire. Sinodo più aperto. Chiesa in ascolto. Ruolo maggiore ai laici. Un potere deliberativo. La Costituzione apostolica episcopale scomunio. Rinnova strutture e compiti. Il Papa ai giovani. La sessualità è un dono di Dio. E poi la fotonotizia. Sacerdote italiano rapito in Niger. Da gruppo di jihadisti. Il missionario forse portato in Burkina. E poi ancora pressing su Tria. Ministro serio. I soldi vi trova. Reddito di cittadinanza. Di Maio sferzante. Andiamo ora sulla prima pagina del mattino. Manovra. Di Maio Tria. Un passo dalla rottura. Il Movimento 5 Stelle. Il ministro sia serio. Trovi i fondi. La replica. Posso togliere il disturbo. Olimpiadi nel caos. Torino resta fuori. Poi la fotonotizia. Al centro. Il muro di Belgrado. Debutto Champions. Solo 0-0. Contro la Stella Rossa. Il Napoli a testa bassa. Ma non sfonda. Il girone della morte. Parte in salita. Poi sotto la testata. Un riferimento anche a Miss Italia. La napoletana Fiorenza. Sono io la Miss del popolo. Voto ribaltato dalla giuria. che, sappiamo, il titolo di Miss Italia ha andato alla marchigiana Carlotta Maggiorana. E andiamo a chiudere con il sole 24 ore. Grandi opere. 20 miliardi di investimenti da sbloccare. Le priorità. Da 5 anni rilanci promessi. Ma spesa sul Pile ferma al 2%. Tria salire al 3%. Burocrazia, procedure e incertezza nei programmi. Priorità. Rifrenano la spesa. E poi buia del lancio. Basta dispute ideologiche. Il settore delle costruzioni affonda. E poi la fotonotizia. Globalizzazione nell'aumento degli investimenti secondi dopo la Cina. Crescita record per l'Italia e la Unione Europea in Africa. E poi ancora in taglio medio. Bonus formazione 4.0 si allarga la platea verso l'estensione a intese siglate prima del decreto attuativo del 22 giugno. E poi finanza online. Consob sanziona 183 siti abusivi. Accelera l'attività dell'ente nei primi sei mesi del 2018. Stoppa agli operatori illegali. Noi lasciamo qui i quotidiani nazionali. Torniamo su quelli locali. E siamo a pagina 2 del centro autostrade. I fondi nel decreto Genova. L'annuncio dell'amministratore delegato di strada dei parchi ramadori. Ma per il nuovo anno si prevede un altro aumento delle tariffe del 3,5%. E poi in basso caro pedaggi si torna a protestare al MIT. Sindaci, amministratori e associazioni oggi ancora nella capitale contro i maxi aumenti su A24 e A25. E poi ancora un altro argomento caldissimo. In questi giorni elezioni la data contestata tra liti e sondaggi è già corsa alle urne. Forza Italia, Lega, Udc, Fratelli d'Italia annunciano ricorsi. Ma Di Sabatino del PD ribadisce rispettate con scrupolo le norme e la tempistica. Poi qui abbiamo una serie di dichiarazioni del leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, di Maurizio Gasparri di Forza Italia, Renzo Di Sabatino, neosegretario regionale del PD, Giuseppe Bellachioma, parlamentare e segretario regionale della Lega, e poi Mauro Febbo, consigliere regionale, presidente della Commissione Vigilanza, esponente di spicco di Forza Italia, che andiamo ad ascoltare in questa intervista rilasciata a Paolo Renzetti. Chiaramente l'argomento è quello della data fissata per le elezioni, il 10 febbraio, con Forza Italia che annuncia ricorsi. Da poche ore ormai ufficiale, si tornerà al voto per le amministrative in Abruzzo il 10 febbraio, una data che non piace al centro-destra. Febbo, siete pronti a ricorrere anche al Tarra? Ma guardi, è una data illogica dal punto di vista giuridico, credo che abbiamo dimostrato che le date per votare erano altre, ma io credo anche dal punto di vista estremamente tecnico, votare il 10 febbraio significa presentare le liste, entro il 10 gennaio significa fare una campagna elettorale nei famosi giorni della merla, cioè nei giorni più freddi dell'anno, quando in una regione ci sono oltre 100 comuni che superano i millimetri. Io credo che questa sia un'azione predeterminata, c'è qualcuno che vuole per forza spostare la data, sperando in qualcosa che possa accadere e che però non ha giustificazione, perché penalizzare in questa maniera gli abruzzesi veramente non c'è alcun ritegno. Io credo che anche il percorso seguito per arrivare a questa data, noi venerdì scorso abbiamo occupato simbolicamente la sala consigliare, per essere ricevuti e parlare con il Presidente facendo funzione, Lolli, di quando si sarebbe saputa la data. Quando abbiamo avuto l'incontro, venerdì pomeriggio, ci siamo incontrati, il Presidente Lolli ci ha detto e ci ha prospettato un percorso che bisognava seguire tra lui, Presidente del Consiglio, Presidente della Corte d'Appello, che forse si capiva che si arrivava a fine settimana, questa settimana, per avere questa data. Improvvisamente passa il sabato, passa la domenica, ieri, lunedì, arriva questo decreto, veramente credo che ci sia da dubitare sul percorso fatto, credo che sia stato tutto preordinato, d'altronde in Regione, tra i consiglieri di maggioranza, da sempre girava questa voce, si voterà fine febbraio, marzo, hanno anticipato di una settimana. Ci potrebbe anche essere il rischio di posticipare di qualche mese le elezioni regionali e far sì che si possa votare nell'Elecco Ciondei? Mardi, veramente, veramente signifirebbe calpestare la Costituzione e i diritti. L'unica cosa certa è che c'è che Forza Italia, giovedì pomeriggio si riunrà con i massimi vertici, con il segretario coordinatore regionale Pagano, l'onorevole Martino, con i nostri legali che già stanno lavorando su esaminare la possibilità di fare ricorso. Credo che ci sarà un ricorso al TAR e noi ci auguriamo che i tempi vengono abbreviati. E Forza Italia chiede le dimissioni di Tonelli, il consigliere regionale Febbo che abbiamo appena ascoltato al presidente di tua carica incompatibile. Vado dal difensore civico. Pagina Abruzzo, zona d'economia speciale, area fisco agevolato, il Ministero dà l'ok alla Regione, una zessa solo abruzzese dopo la rinuncia del Molise per il di Castero del Sud. Si può fare ad alcune condizioni. Poi ancora Parco Lanciano, D'Alfonso adesso rischia il processo nel mirino della Procura di Pescara, la delibera per la riqualificazione dell'area, richiesta di rinvio a giudizio anche per gli assessori Paolucci, Pepe, Sclocco e l'ex Di Matteo. Pagine di Pescara, vicenda pronto soccorso, ancora emergenza, pochi medici, accessi bloccati ai pazienti, attese anche 11 ore e 66 persone in coda, ambulanze dirottate in altri ospedali e il primario torna a chiedere rinforzi. Poi ancora la parola del direttore sanitario che dice ma i casi più gravi restano a Pescara. Poi ancora in basso leggiamo Riparte Nonno, ascoltami, visite deludito gratis in 33 città. Proseguiamo, soldi per fare ottenere le invalidità. Berghella patteggia due anni e otto mesi, faceva credere ai pazienti di pilotare l'esito delle pratiche da presentare all'Astria per le pensioni. Per il medico ed ex consigliere comunale di Forza Italia ha disposto il sequestro di beni per 32 mila euro. Le indagini presero in via dopo la denuncia di un paziente, il quale a luglio del 2015 tentò di accoltellare il professionista nel suo studio. E poi ancora violenze all'ospizio, vidi lividi e rossorio, operatrice sanitaria a processo per maltrattamenti ad anziani, un'infermiera conferma le accuse. E poi ancora addio all'artista Luigi Baldacci, oggi alle 15 nella chiesa Stella Maris, i funerali del pittore Veggente, autore dei pannelli in comune. Proseguiamo, servizio a rischio, mense scolastiche, salta l'accordo, la trattativa con la nuova ditta si arena, le maestranze non accettano la riduzione delle ore, ipotesi nuovo appalto, una vicenda che ormai tiene banco dallo scorso giugno, quando ci fu il problema con la precedente ditta. E poi ancora Pescara verso le elezioni, Padovano corre solo, mi candido a Sindaco del Mare, il consigliere comunale e vicepresidente di Confcommercio, niente primarie, ho già la mia lista civica con 30 nomi, con me ci saranno anche le mogli della marineria. E poi in taglio medio, lo abbiamo visto già in prima pagina, con questo incidente rocambolesco sulla nazionale, urta auto e bici in sosta, si ribalta, tutti salvi, ecco qui il mezzo rovesciato nel pieno della carreggiata in via nazionale. Pagine di Montesilvano, furto in municipio, ladri entrano in comune, rubano spiccioli e una tv, penetrati da un ingresso laterale, non sono riusciti a forzare l'ufficio del sindaco, le parole del sindaco stesso Maragno, tanti danni, stiamo visionando le telecamere presenti in zona. e poi ancora le indagini sul rogo in via Marmolade, incendio doloso in chiesa, sequestrati gli inneschi, i carabinieri stanno studiando anche le immagini delle telecamere della zona, l'edificio religioso è chiuso e le funzioni sono sospese. Intanto, in basso, vediamo, Mense, il servizio riprende il 15 ottobre, fino a dicembre, pasti erogati dalla Cirfood, l'assessore, cibi biologici e prodotti a chilometro zero. feste angolane chiusa una edizione indimenticabile in momenti più alti con i concerti di Mazzocchetti della banda della Polizia e dell'orchestra popolare di Saltarello Abruzzese. Qui alcuni degli scatti in questo caso in posa il sindaco di Città Sant'Angelo Florindi. Avanti ancora la lunga estate di Francavilla e l'ora dei turisti stranieri lì di aperti fino a ottobre grazie alle temperature ancora estive 36 stabilimenti proseguiranno la stagione villeggianti da Belgio Svizzera Germania e Spagna anche per un solo giorno e dopo il pienone di agosto l'affluenza in spiaggia prosegue soprattutto in mattina e l'ora di pranzo e le strutture dotate di ristorante resteranno aperte anche d'inverno. Siamo ora nella zona Vestina ospedale di Penne il sindacato turni troppo pesanti il segretario regionale Fialz Pasqualone chiede un incontro urgente con il manager dell'ASD personale stressato dalle carenze proseguiamo e siamo alle pagine di Chieti emergenza sicurezza riviodotto a rischio ora passa l'ANAS annuncio dell'azienda statale pronti a prendere la gestione nessun pericolo di crollo immediato il Movimento 5 Stelle replica fuori gli atti avanti ancora e siamo a Lanciano si schianta in auto contro l'albero e muore Gentilina Camiscia 50 anni potrebbe aver avuto un malore prima di perdere il controllo del veicolo oggi i funerali vediamo il servizio potrebbe essere stato un malore a causare la morte di Gentilina Camiscia 50 anni di Lanciano la donna residente in località Camice era la guida della sua utilitaria Peugeot di colore bianco percorreva la provinciale lungo Serre e viaggiava in direzione Val di Sangro quando all'improvviso avrebbe perso il controllo del mezzo è quindi uscita dalla carreggiata per circa un paio di metri dove inizia la scarpata finendo la corsa contro degli alberi prima di una curva è qui che Camiscia è stata trovata senza vita i soccorritori hanno provato a rianimarla ma senza esito l'incidente è avvenuto intorno a Luna sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Lanciano a questi ultimi spetta a ricostruire la dinamica dell'incidente sul luogo sono accorsi anche i familiari tra questi il giovane figlio la Walter Tosto investe 10 milioni sul porto a Ortona all'azienda area di 13 mila metri quadrati tra via Cervana e la banchina coletti opportunità per oltre 20 lavoratori la D è un numero prudente saliremo è ora delle pagine di Teramo il caso paradossale estireria con 50 dipendenti chiude perché il proprietario è anziano l'azienda di Molviano di Campri lavora per il malificio Gran Sasso ed è Florida ma licenzia tutti la Filtem CGL l'industria committente ci aiuti a ricollocare gli operai nelle imprese che subentrano e poi ancora tragedia sull'autostrada giovane di Atri muore in A22 a Manto va a perito chimico di 33 anni si schianta contro un tir nel giorno del compleanno dopo il matrimonio si era trasferito a Verona la vittima nel tondo Ugo Pepe questo è il tratto del carreggiato dove è avvenuto l'incidente mortale poi ancora frana di Casoli ci sono i fondi dal governo arrivano 4,5 milioni il commissario per la ricostruzione ha stanziato la somma che sarà segnata tramite la regione il comune dovrà realizzare i lavori di messa in sicurezza ma per le case inagibili servono altri soldi infine le pagine dell'Aquila cultura manca sala da mille posti troppi spettatori il concerto raddoppia per il secondo anno l'auditorium della finanza è indisponibile enti culturali costretti a peregrinare in cerca di spazi e poi ancora in Marsica la guerriglia intorno allo stadio tifo violento arrestati due vezzanesi ultra ai domicilieri per aver scagliato sassi contro la polizia ferito alcuni agenti e danneggiato auto nella gara con il Cesena e poi in taglio medio spariti 50 mila euro all'ufficio postale a Tagliacozzo i carabinieri indagano sul misterioso episodio al baglio i filmati delle telecamere noi per ora ci fermiamo con la rassegna stampa di mattino 6 finisce la prima parte spazio alle previsioni del tempo la pubblicità e poi ritorniamo con la seconda parte ancora buongiorno e ben ritrovati con mattino 6 siamo sul messaggero la pagina di politica il lolli e il 10 febbraio non abbiamo paura dei ricorsi la compressione dei tempi sarebbe stata più rischiosa mi sembra che le polemiche interessino poco gli elettori poi in basso in 100 comuni montani consultazione con la neve Mauro Febbo di Forza Italia attacca la decisione di forzare è stata un atto da irresponsabili prima abbiamo ascoltato Mauro Febbo ora ascoltiamo dalla parte opposta il neosegretario regionale Renzo Di Sabatino ormai è ufficiale per le regionali in Abruzzo si voterà il 10 febbraio 2019 all'indomani dell'annuncio della data tra le forze politiche e i blocchi di partenza c'è chi grida la vergogna e si appresta a fare ricorso per anticipare il voto e c'è chi come il Partito Democratico intende riprendere subito un cammino più calato tra la gente per illustrare le cose realizzate in questi anni dal governo D'Alfonso e dibattere da vicino i problemi dei territori una ripartenza targata a Renzo Di Sabatino attuale segretario regionale del PD si voterà il 10 febbraio mi dà un po' di respiro la data non è in funzione del PD o di altri partiti la data è stata scelta sulla base di una lettura ragionevolmente orientata delle norme che ci ha portati al voto a mio avviso la prima data davvero utile per tutti sia da un punto di vista giuridico che politico quindi diciamo questa cagnara che sta montando su e che mi fa pensare a una salvinizzazione di questo centrodestra abruzzese sicuramente non è un buon viatico per la regione e per i problemi che la regione ha Sara Marcozzi definisce il PD abruzzese un malato terminale lei lo sta rianimando no perché non sono un medico vedo che diciamo il garbo continua nelle dichiarazioni di vari esponenti tra cui Sara Marcozzi che se le mie notizie non sono sbagliate è stata indicata come candidato presidente della regione Abruzzo dopo aver stoppato una diciamo regionaria fatta di pochi clic perché addirittura anche con pochi clic non riusciva ad essere indicata a lei e poi è stata indicata all'esito di regionarie abbastanza farlocche torniamo in casa il coordinamento provinciale di Teramo esprime pieno sostegno a Renzo di Sabatino però poi dice azzeriamo tutto e ricominciamo da capo è un vero sostegno o no? è un modo per dire cerchiamo di discutere maggiormente e poi arriviamo a una scelta questo lo aggiungo io noi possiamo fare tutto sugli organismi però c'è il momento della discussione e c'è il momento delle decisioni le linee programmatiche del suo PD io ho un giudizio positivo della consigliatura uscente è stato messo in campo un grande piano di infrastrutture i cui effetti li vedremo negli anni futuri e nessuno potrà negli anni futuri dire che non siano frutto del lavoro di questa legislatura così come un gran lavoro è stato fatto nella sanità e lo dimostrano le proteste e anche i tanti diciamo scontenti perché tu quando fai delle riforme vere necessariamente vai a toccare anche delle incrostazioni detto questo c'è in Abruzzo un problema dell'immediato del problema di chi perde il lavoro e del problema di chi diciamo sta peggio i due temi centrali del programma del Partito Democratico saranno l'aiuto il sostegno allo sviluppo economico e quindi all'occupazione e la riduzione delle diseguaglianze il terzo pilastro sarà quello di una particolare attenzione al mondo dell'istruzione a quell'universitario al rapporto tra la scuola abruzzese e le sue imprese sempre sul messaggero pagina di Pescara una darsena fantasma nel nuovo porto nel progetto depositato un secondo approdo per i pescarecci non previsto dal piano regolatore approvato dopo l'esame via alla denuncia del forum dell'acqua una soluzione giustificata da emergenze ambientali che rivela i limiti della pianificazione un altro pasticcio dopo la scoperta dell'ostacolo del ponte del mare all'ampliamento del bacino e poi in basso Villa delle Rose d'Alfonso ed ex assessori verso il processo il PM ha chiesto il rinvio a giudizio per falso anche Paolucci Sclocco Pepe e Di Matteo tra gli imputati proseguiamo morto Baldacci il pittore delle tele di Palazzo di Città un protagonista della scena artistica del novecento aveva 82 anni oggi funerali il suo ciclo sulla storia di Pescara al centro di un caso dopo la morte di Alberto Casalini molti consiglieri ricorda il nipote Licio Di Biase si opposero in modo strumentale al ritorno dei quadri un talento precoce il debutto a soli 15 anni pochi giorni fa l'ultimo dipinto nella sua vita anche una impresa nautica e poi in taglio medio tangenti per le pensioni patteggia due anni e otto mesi il medico Berghella avanti ancora siamo a Montesilvano furto in comune ladri indisturbati entrano da una porta laterale rubano soldi e un maxischermo nessuna telecamera presente all'interno degli uffici gli investigatori stanno esaminando le immagini esterne poi in taglio medio ho visto picchiare gli anziani in aula il racconto della casa di riposo Lager un'infermiera accusa un'operatrice sanitaria anche una donna affetta da Alzheimer tra le vittime siamo alle pagine dell'Aquila l'università si apre al futuro ora si studia la scienza dei dati presentato un nuovo corso di laurea magistrale che è stato articolato in tre percorsi formativi l'Ateneo va incontro alle esigenze del mercato sono sempre maggiori gli ambiti di applicazione si delinea una prospettiva anche su altri settori della vita dichiara la rettrice Paola Inverardi e poi ancora in basso Palazzo Centi via libera dal Consiglio di Stato e poi Biondi fa il pieno ipotesi commissario avanti ancora siamo a pagina 52 annegato nel canale per sfuggire ai cani due persone a giudizio tre esemplari di corso lasciati incustoditi avrebbero aggredito un muratore albanese morto mentre tornava a casa siamo in Marsica disordini dopo disordini nel dopo partita due arresti gli ultras marsicani sono finiti ai domicilieri dopo l'esame delle foto adesso si attendono sviluppi anche da Cesena in molti ora rischiano in base alla nuova legge molto restrittiva e non è escluso che vengano eseguite altre misure cautelari pagina di Chieti donna 48enne va in ospedale per un mal di pancia e muore la procura di Chieti indaga sul decesso di Elisabetta Gonnella omicidio colposo questa è l'ipotesi espirata a Lanciano dopo il ricovero per i danni dall'endoscopia fatta a Ortona l'inchiesta aperta dal PM di Turmo Giuseppe Falasca punta ad accertare eventuali responsabilità mediche poi ancora di spalla c'è una ordinanza a Chieti sul cavalcavia numero 5 solo i mezzi di soccorso siamo a Lanciano abbiamo visto in precedenza il servizio auto nella scarpata muore a 50 anni Gentilina Camiscia ha perso il controllo della Peugeot 208 sulla provinciale che la Villa Andreoli porta in Contrada Serra è disperato il tentativo dei sanitari del 118 di salvare la vita la donna apparteneva a una storica famiglia di frantoiani e poi in basso broker condannato a 2 anni e 6 mesi 22 clienti gli hanno dato i loro risparmi Fabrizio Silveri 53 anni è nato in Svizzera per l'accusa si è impossessato di 320 mila euro e poi ancora a Castiglione Messer Marino chiuso il viadotto sul fiume Sente strappiamo le tessere elettorali vediamo il servizio realizzato dai colleghi di Telemolise dalle 13 di oggi è chiuso al traffico il viadotto Sente unico vero collegamento tra l'Abruzzo e il Molise non si sa se e quando sarà riaperto per questo un buon numero di cittadini ha deciso di manifestare pacificamente si era anche pensato di strappare le tessere elettorali ma l'arma del voto questa gente vuole tenersela ancora c'è rabbia perché questo viadotto è l'unica possibilità per i paesi del versante vastese di raggiungere l'ospedale e le scuole di Agnone soprattutto quando l'inverno picchia duro c'è preoccupazione perché temono che una volta chiuso il Sente non riapra più ci sono tutte le provinciali interrotte e quindi abbiamo dei forti disagi quindi noi non vogliamo che vengano spenti i riflettori su questo problema della viabilità noi siamo rimasti alle porte dell'inverno questa è la cosa più grave alle porte dell'inverno dove la strada alternativa è molto più alta di quota e quindi io non so veramente come come dobbiamo fare chi vive da queste parti sa bene che percorsi alternativi purtroppo sono messi malissimo il percorso alternativo è stato individuato nella ex statale Istonia che praticamente sono 15 km circa e presenta 5-6 tratti in frana probabilmente il percorso scelto come alternativo a questo è più pericoloso del ponte stesso per chi lavora o deve garantire assistenza sanitaria ora la situazione si fa davvero dura i miei pazienti sono distribuiti in 19 comuni beh vi assicuro non è facile raggiungere i comuni dell'Alto Vastese soprattutto nel periodo invernale se in tutti questi anni fosse stata garantita la manutenzione ordinaria accusano i cittadini oggi non ci si ritroverebbe in queste condizioni sono 30 anni che vivo qua dietro e non ho visto mai mai un giorno che hanno fatto manutenzione hanno messo solo questi birilli diciamo per ristringere solo la strada per molti questa chiusura si poteva evitare a maggior ragione perché si sapeva che da oltre un decennio il viadotto necessitava di interventi urgenti dal 2006 tutti sapevano che il ponte era pericolante o almeno un pilone aveva dei problemi non si sa fino a quando il viadotto resterà chiuso di certo non bastano pochi spiccioli per metterlo in sicurezza abbiamo chiesto un milione e due alla regione al provvedorato alle opere pubbliche per consolidare la fondazione in diretta della pila numero tre e cercare di ripristinare gli appoggi della pila numero due e numero tre degli impalcati pagina di terramo del messaggero esercito dei furbetti al volante 3 milioni di multe non pagate 10 mila sanzioni ma saldano in pochi a imperversare in città e la sosta vietata la rottamazione delle cartelle sattoriale ha fruttato al comune solo 100 mila euro il comandante dei vigili Franco Zaino altro problema sono gli eccessi di velocità a piano d'accio e poi di spalla il video sul ponte Morandi indaga un PM terramano quindi a Giulianova ordine di demolizione per il Bora Bora il ristorante deve essere abbattuto entro il 27 settembre secondo l'ufficio tecnico del municipio sarebbe abusivo se il proprietario non effettuerà il ripristino dei luoghi potrà essere emessa una sanzione di 20 mila euro lasciamo il messaggero e andiamo sulla città il quotidiano della provincia di Teramo e siamo subito a pagina 5 Kuzminak cantatore che amava l'Abruzzo l'artista che aveva una residenza a Cellino si è spento a 65 anni aveva lavorato anche con Graziani qui lo vediamo in una foto con Duccio proseguiamo siamo a pagina 7 la storia di Maria ha commosso Teramo aveva deciso di sposarsi nonostante la malattia scoperta 7 anni fa lunedì sera si è spenta 33 anni oggi i funerali l'addio della giovane Teramana questo pomeriggio alle 15 al santuario Madonna delle Grazie ed era molto conosciuta Maria Scacchioli terza figlia di Renato Scacchioli campione internazionale di Raffa e già allenatore della nazionale italiana di Bocce pagina 8 decreto ingiuntivo parla Cerino con la cessione della strada al comune mai formalizzate le spese di manutenzione altro che inutile la viabilità interessata dalla controversia è quella che porta sulla rotatoria sulla SS80 nella zona del project pagina 9 via Muzzi lavori eseguiti ma non si vede uffici comunali intenti a verificare il rispetto dell'ordinanza del commissario Pizzi sui ruderi fatiscenti il comune aveva chiesto la messa in sicurezza dell'immobile e la rimozione delle situazioni di degrado e poi ancora ha iniziato il tour delle strade disastrate il sindaco d'Alberto a mezzanotte lancia una mappatura dei problemi per stabilire le priorità non c'è frazione o contrada che non lamenti problemi con buche frane e asfalti ridotti in macerie poi ancora andiamo avanti siamo sulla pagina dell'economia perché investire in ciò di cui nessuno parla ogni settore finanziario attraversa sette distinte fasi l'importante è saper riconoscere il momento esatto quando anche i piccoli risparmiatori sono convinti che non ci sia limite alla crescita allora si avvicina alla cosiddetta bolla questo appunto nella pagina dell'esperto dell'esperta di economia della città Ida Pagnottella avanti ancora notizie dalla provincia siamo a pagina 14 Crognaletto apre la seconda scuola dopo le scosse mentre Isola aspetta domani mattina il taglio del nastro della nuova struttura di ultima generazione nella frazione di Tottea la scuola è stata realizzata grazie al contributo da 850 mila euro erogato dalla regione Emilia Romagna pagina 15 a Bellante smerciava auto rubate tra Italia e Albania sulla testa di un 42enne di Bellante pendeva un mandato di arresto internazionale emesso a Durazzo e poi ancora ad Alba Adriatica l'epidemia è stata tutta colpa degli scarichi abusivi nelle motivazioni della sentenza Ruzzo scagionato per l'inquinamento che portò 50 bimbi in ospedale le colpe per il giudice tutta la colpa di allacci irregolari allevamenti e sversalamenti indiscriminati lungo il corso del fiume Vibrata pagina 17 a Giulianova spacciatore arrestato dopo un inseguimento nei guai un 57enne giuliese che nascondeva cocaina in camera da letto poi a Roseto primi interventi per le strade martoriate al via questa mattina i lavori sulle vie che portano verso Montepagano e l'assessore Petrina ha disposto alla creazione di un marciapiede di fronte al palazzetto e poi l'incidente a Mantua abbiamo già visto anche sulle altre testate muore alla vigilia del suo compleanno Ugo Pepe 33enne originario di Atri con il suo Fiat Doblo ha tamponato un tir sulla A22 del Brennero da tempo il giovane Atriano si era trasferito a Verona dove viveva con la moglie e con la figlia di appena 8 mesi e siamo alla pagina dello sport Teramo Samb chi guarisce prima diavolo battuto dal Sud Tirolo Rossoblu a pezzi dopo lo 0-2 partito con il Renati i biancorossi sono chiamati a fare la partita e vincere per muovere la classifica rapido excursus sulle pagine delle prime pagine delle testate nazionali sportive chiaramente la Champions in primo piano con i risultati delle gare di ieri in particolare su tutte l'impresa dell'Inter Urlo Inter Champions San Siro esplode di gioia inglesi battuti 2-1 pazzesca impresa dei nerazzurri sotto di un gol ribattano il Tottenham negli ultimi minuti magia di Icardi poi risolve Vecino sempre lui e poi ancora gli altri tre fronti della Champions Napoli a Belgrado 0 reti e rimpianti Juve il via Valencia con CR7 in più a Costa 4 turni e poi Roma De Rossi crede nella Mission Impossible Real avanti ancora siamo al Corriere dello Sport che apre con l'hashtag abituale per il tifo interista ovvero Amala Tottenham battuto 2-1 la Champions si riaccende l'Inter strepitosa rimonta a San Siro uno splendido tiravolo di Icardi e un colpo di testa di Vecino al 92 ribaltano gli Spurs tifosi pazzi di gioia poi il Napoli non sfonda il muro di Belgrado tripromessi Barca in volo Liverpool stende il PSG col Pociolo e poi CR7 a Roma Podemos poi ancora Serie B al ridicolo governo in campo avanti con tutto sport che apre così Vamos Ronaldo ore 21 Valencia Juve poi sotto la testata Vecino l'uomo del destino Magia di Cardi poi l'Uruguayano che ha portato l'Inter in Champions completa la rimonta sul Tottenham lasciamo le testate nazionali e rapidamente torniamo sulle locali andiamo sul messaggero ecco qui Pescara 10 punti e media playoff Repetto responsabile dell'area tecnica punta a ottenere le prime 6 partite se la squadra continua a giocare così può avere degli obiettivi importanti parole estratte dalla sua partecipazione dalla partecipazione di Giorgio Repetto alla puntata di replay di Enrico Rocchi di due giorni fa e poi per il calcio a 5 Acqua e Sapone ecco il calendario del girone di Champions in basso kickboxing mondiali di Esolo c'è anche Lisa Fiore sarà certamente una bella esperienza che ripaga i tanti sacrifici fatti e poi ancora per la serie C Vescovo e Acqua Santa benedicono il diavolo l'incontro con Monsignor Leuzzi non placa i malumori per la sconfitta di misura contro il Sud Tirola a Bolzano dobbiamo diventare ancora più squadra dice il presidente del Teramo Campitelli dopo il passo falso nella prima gara questa è una foto di ieri con al centro proprio Monsignor Leuzzi e ai suoi fianchi il presidente Campitelli il vice presidente del Teramo Cimini campiato di eccellenza il Sambuceto con un trist di vittorie Scalza il Chieti Scalza il Chieti dal primato e poi Rugby l'Aquila Grinta Milani stiamo lavorando tanto peccato per gli infortuni lasciamo il messaggero andiamo ora sul centro anche in questo caso pagina dello Sport Brugman è in dubbio Canutè strega Pillon preoccupa la caviglia del capitano il senegalese scalpita estate turbolenta per il mediano che ha saltato la prima parte del ritiro ma che in poco tempo ha scalato posizioni nelle gerarchie dell'allenatore poi nelle notizie brevi due cambi in panchina di già in serie B dopo tre giornate Brescia via Suaso Cellino prende Corini dunque fatale il pareggio con il Pescara per il tecnico oramai ex tecnico del Brescia c'è Corini al suo posto e poi nel Carpi saluta Chezzi torna Fabrizio Castori il tecnico della prima storica serie del Carpi sabato arriva il Foggia Mancuso affila le armi la punta l'anno scorso sempre a bersaglio contro i pugliesi Monachello fremme per diventare titolare e poi serie C l'intervista al DS Terramano Federico Federico voglio un Teramo arrabbiato e affamato il DS Biancorosso domenica sarà il grande ex contro la San Benedettese tra i rosso-bludo e butterà i lari in arrivo circa 700 tifosi dalle Marche e poi di spalla Mele da play a mezzala spero che sia l'anno della consagrazione per il centrocampista del Francavilla autore del primo gol nella vittoria 3-1 tra del Francavilla sul Pineto e poi il ciclismo domenica prossima il grande appuntamento con il trofeo Matteotti al Matteotti anche il colombiano Nairo Quintana la presenza del corridore della Movistar e l'introduzione della salita di Via Tiberi tra le novità della settantunesima edizione questo è un momento della conferenza stampa che si è tenuta ieri nel tardo pomeriggio all'Aurum di Pescara di cui parleremo nell'edizione odiana del TG6 noi finiamo con Mattino 6 vi rimando chiaramente alle edizioni dei TG per le notizie di giornata le edizioni principali sono quelle delle 14 delle 19 e delle ore 23 in regia ringrazio Maurizio da qui ringrazio voi per la cortese attenzione buona giornata grazie a tutti